Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, domenica mattina manifestazione sportiva in centro, è prevista una corsa podistica di 10 km nell'area tra il Circo Massimo, Piazza Bocca della Verità e i Fori Imperiali, deviazione tra le 8.30 e mezzogiorno di domenica per 28 linee di bus. I dettagli e anche le strade interessate sono su romamobilita.it